a distruggerla, a dimensionarla e soprattutto a Roma e nel Lazio, come dire, ne sappiamo qualcosa considerando tre anni di battaglia contro la Tarsia. Il fatto che ancora oggi siamo qui, secondo me, è la vittoria della nostra vitalità e della nostra resistenza. Questo secondo me è il punto di partenza a tutti delle istituzioni che loro possono continuare a svuotare, ma noi continueremo a denunciare e a fare le guardiane di questo servizio che è fondamentale per la salute delle donne in tutti i sensi, non solo in termini Lorenzini, perché appunto mette al centro la persona, ha una gestione olistica del personale, sappiamo cosa sta succedendo con il personale che continuamente, quando va in pensione, viene sostituito e siamo, come dire, tutte donne che sappiamo bene di che cosa parliamo nelle diverse associazioni, non solo come UDI, ma nel sindacato e nelle altre.